Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò dove si troveranno le due nuove falene lucenti nel trono mondo di Sabathun. Ci tengo a ricordarvi che queste saranno le ultime falene lucenti che vedrete. Con questo voglio intendere che non usciranno più altre falene lucenti, queste saranno le ultime. Io vi farò poi un video dedicato dove ci saranno tutte le falene lucenti che sono uscite fino ad ora. Per trovare la prima falena lucente dovrete andare sull'attività altare della riflessione, catalizzatore. Nel caso in cui non ci sia poi in una giornata in cui state provando a trovarla, potrete provare a fare lo specchio, la missione, che sempre vi riporterà sull'altare della riflessione. Una volta avviate l'attività e atterrati vi troverete davanti a fare un puzzle. Una volta completato questo puzzle la porta davanti a voi si aprirà. Ora quello che dovrete fare semplicemente è andare avanti, quindi proseguire con il percorso, e arriverete a una stanza bella grande. In questa stanza verso l'alto, verso destra, esattamente, troverete una vista profonda. Quello che dovrete fare è avvicinarvi alla vista profonda, interagirci, e qui vi farà comparire un percorso da fare a parkour. Dovrete saltare sui dei ripiani, dovrete raggiungere poi la parte più alta, e qui si troverà la falena lucente. Per trovare la seconda falena lucente dovrete andare verso la zona di Canali in Fiore. In particolare dovrete andare vicino alla fontana che troverete al centro, dove ci sarà la falena lucente che girerà su una specie di zatterina piccolina. Una volta che avrete raccolto l'ultima falena lucente che sarà rimasta, dovrete andare da Finch, e qui alla sua destra troverete la caverna dove potete depositare le falene lucenti. Una volta che l'avrete fatto, il trionfo dell'epidotterologo l'avrete completato. Ebbene ragazzi, le falene lucenti sono finite qui. Quelle che dovevano uscire erano queste, ed erano le ultime. Io vi invito a guardare gli altri video nel caso non avete raccolto le altre falene, e spero di esservi stato di aiuto con tutta questa raccolta di falene lucenti da trovare. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!